Scorci unici, grotte suggestive e un vero e proprio viaggio nel tempo grazie al Santuario del Beato Santi, al Museo di Arte Sacra e quello della civiltà contadina, con fedeli ricostruzioni di altri tempi, curiosità e reperti archeologici. Tutto questo è a Monbaroccio, un borgo medievale situato nelle colline marchigiane in grado di offrire ai turisti un percorso fra arte e cultura. La sua origine non è stata ancora individuata esattamente, così come il nome che la tradizione popolare attribuisce al Biroccio, il mezzo di trasporto più usato in passato. Certo è che il periodo malatestiano segnò definitivamente l'assetto urbano di Monbaroccio, con la costruzione delle mura fortificate esterne all'abitato, che ancora oggi si presentano in gran parte ben conservate e alle quali appartiene il nucleo più antico della splendida Porta Maggiore. Per promuovere al meglio ciò che di più bello e di più buono offre Monbaroccio, la locale Proloco ha deciso di realizzare questo video, che è stato prodotto da RC Media in collaborazione con Fano TV. Rappresenta tutto il nostro territorio, le nostre colline, ma rappresenta anche il mare, quindi abbiamo avuto una visione molto più ampia del territorio, dove praticamente è un video per dimostrare a tutti chi visiterà questo video, per dire che siamo vicini al mare, siamo nella collina, allo stesso momento possono venire ad assaporare, ad assaggiare i nostri prodotti, dormire nei nostri bed and breakfast e allo stesso tempo poter andare al mare. Domani sera lo presentiamo alla città, proprio in anteprima, anche per capire se abbiamo dei suggerimenti prima di definire il tutto e di pubblicizzarlo. Quindi domani sera alle ore 21 nel teatro comunale presenteremo, secondo me, questo bellissimo video a tutta la cittadinanza di Monbaroccio, ma non solo, abbiamo invitato tutte le Proloco e abbiamo invitato anche molte autorità a partecipare. Annuncerete anche gli eventi in programma, ci sono delle novità a riguardo? Sì, ci sono tantissime novità, la prima sarà il ripristino della festa di Santa Susanna a Villa Grande, poi avremo un raduno di auto storiche, e poi un susseguirsi di eventi che adesso non voglio svelare qui questa sera, ma domani sera vi invito tutti a partecipare a Monbaroccio nel teatro comunale per vedere questo ricco pacchetto di eventi estivi, sia culturali, enogastronomici e eventi sportivi. In ogni stagione dell'anno, in questo piccolo borgo ridente, c'è uno scorcio che vi sorprenderà, un dono ricco di bellezza, pronto a farvi emozionare.